Firenze è tornata a livello di presenze dell'era pre-covid. Le strutture ricettive hanno definitivamente dimenticato il periodo più difficile, quello della crisi turistica delle città d'anno. L'atmosfera natalizia fa il resto e i tassi di occupazione già elevati saliranno ancora in vista del Capodanno. Possiamo affermare che il Natale di quest'anno ci riporta a Natale del 2019, quindi al periodo pre-covid, con ottimi tassi di occupazione a partire dal 27 dicembre, praticamente normale che avvenga così, fino a tutto il primo dell'anno. Quindi sono giorni abbastanza intensi, tassi di occupazione elevati. Se le restrizioni appartengono al passato, la pandemia ha lasciato in eredità un nuovo approccio al turismo. Il sistema online per le prenotazioni sta ormai diventando il sistema e raramente abbiamo le prenotazioni offline. Comunque, al di là di quelli che sono i contratti con i grandi operatori turistici, il resto transita moltissimo su web. Non mancano le presenze straniere, nonostante le limitazioni per ragioni diverse su Cina e Russia. Ma a fare da traino è il turismo italiano. Non dimentichiamo mai che in Italia, io non parlo solo di Firenze, il turismo italiano rappresenta quasi il 55% dei flussi turistici nel territorio di tutta la nazione.